Che sai del cuore? Che senti del cuore? Una gioia immensa per essere qui, in questa finale del mondo, sicuramente. Pensando al Napoli sicuramente è venuto in mente quelle grandi sfide in realtà, con Napoli di Maradona, quindi c'è sempre stato grande rispetto per le tue squadre e quindi dobbiamo sapere che sarà una trasferta calda, però siamo abituati, forza mia. Questa è di un grandissimo giocatore, io penso che Franco Varesi sia il massimo come difensore, questo è un ricordo che me lo porterò per tutta la vita.